Come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale, oggi chi c'è? Lo vogliamo annunciare o lo commentiamo dopo? Eh dopo, 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 dopo. E allora andiamoci insieme a guardare l'oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sotto il segno degli gemelli nasceva uno degli attori più famosi al mondo, soprannominato il Duca. Nel 1907 nasceva John Way. Marion Robert Morrison in arte John Way era di origini irlandesi. La famiglia di John Way nel 1911 si spostò in California. John Way da adolescente iniziò a lavorare come gelataio e cameriere e si appassionò al football americano. Ottiene una borsa di studio per le sue doti atletiche nel football. Presso l'Università di California fa amicizia con il futuro attore Ward Bond. Mentre girava i suoi primi film con la squadra di football, John Way fece amicizia con il regista John Ford. Grazie al regista John Ford, conobbe personalmente il noto pistolero del Far West, White Earp, che divenne punto di riferimento per la carriera d'attore dei film western per John Way. E nel 1929 John Way iniziò a lavorare per la Fox Film Corporation con un compenso di 75 dollari a ruolo. Ma il suo primo ruolo importante fu nel film western Il Grande Sentiero nel 1930 diretta da Raoul Walsh. Tra il 1930 e il 1939 con un compenso mensile di 420 dollari girò niente di meno 8 film, tra cui Il Re dei Pecos e Il Sentiero della Vendetta. Ma grazie alla grande amicizia che aveva con il regista John Ford, John Way divenne famoso e iniziò a lavorare con il regista in 20 film per 35 anni. Sotto la direzione di Ford, John Way interpretò i suoi ruoli più celebri, a partire da quello di Ring Kid in Ombre Rosse, il western che diede la svolta decisiva alla sua carriera, proseguendo con Il Massacro di Fort Apache, I Cavalieri del Nord Ovest e Rio Bravo e ancora in Un Uomo Tranquillo, Sentieri Selvaggi, l'uomo che uccise Liberty Valance. Il primo film a colori di John Way risale al 1941 che fu Il Grande Tormento, nel quale lavorò con il suo grande amico Harry Carey. L'anno successivo apparve nel Colossal Vento Selvaggio, nel 1942, nel quale recitò accanto a Ray Milland e Paulette Goddard. Uno dei suoi ruoli più popolari fu quello nel film Prigionieri del Cielo, 1954, in cui recitò nel ruolo di un eroico copilota. E nel 1964 affiancò Rita Howard e Claudia Cardinale in Il Circo e la sua grande avventura. Nel 1970 vinse il suo premio Oscar con il film Il Grinta. Fu candidato all'Oscar anche come produttore e regista del film La Battaglia di Alamo. Nel 1975 interpretò un ispettore di polizia nel film Ispettore Brannigan, La morte segue la tua ombra. La sua ultima interpretazione risale al 1976 nel film Il Pistolero di Don Siegel, con la partecipazione di Ron Howard, una sorta di testamento cinematografico. John Way, all'epoca già gravemente malato, interpreta un anziano pistolero di grande fama, affetta da un cancro incurabile, che decide di ritornare a Carson City per regolare alcuni conti in sospeso prima di morire. Ora qualche curiosità di questo grande attore. John Way si sposò tre volte e ebbe sette figli, di cui sei divennero attori. Fu un grande maestro della massoneria di rito scozzese ed è stato un abile giocatore di scacchi e appassionato di pesca. Ed ora alcune sue citazioni. Io recito la parte di John Way, a prescindere dal ruolo che mi viene dato, e mi sembra di essermela cavata bene, ho sbaglio? Un'altra citazione. Non vado in giro a spettacolare sui problemi che ci sono sul set. In realtà non mi considero nemmeno un attore, ma un re attore. Altra citazione è questa. Il coraggio è quando sei spaventato a morte, ma salto in sella comunque. Una citazione molto simpatica. La vita è dura, ed è ancora più dura se sei stupido. Le ultime due citazioni. Nessuno dovrebbe andare al cinema se non crede agli eroi. E l'altra citazione è questa. Il sesso sano è lussurioso e magnifico. John Way fa la sua ultima apparizione in pubblico alla cerimonia degli Oscar del 9 aprile 1979, durante la quale introdusse il premio per il miglior film Il Cacciatore. Morì per un tumore allo stomaco l'11 giugno 1979 e venne sepolto nel cimitero di Urcorona del Mar in California. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da Messilia Pagni. Ciao a tutti. Ciao a tutti.